Che fanno? Fanno che mi fanno male le gambe! Non sono più abituato ad andare in bicicletta. E mi viene il fiatone. No, dici delle perle. Delle? Perle. Le perle? Sì. Le perle sono delle cose bellissime quando sono perle naturali. Quelli artificiali partono da questa grossa sfera che si tirano dentro. Però questo povero mollusco è costretto a ricoprirlo di madre perle. Se il lavoro è fatto bene, dopo quasi due anni, la perla è bellissima, rotonda, perfetta e ha una durata di tanti tanti anni. Una vita intera. Altrimenti si sfoglia come un vero di cipolla. E rimane e appare il nucleo bianco che c'è all'interno.